che bello quanti biossidi di azoto oggi tu sposti che stai facendo sempre mezzo Gigi buongiorno ho bisogno di una cosa importantissima devo fare un podcast però ancora non ho capito che cosa un podcast me lo fai un po' di sossato tagliato fino sul canale non quello di Totti non quello di Baggio non quello di Maradona sul canale di Cristiano Lugarelli dovrebbe essere importante come cosa ah ti sei stufato di fare le foto alle macchine? eh sì che posso fare ti decidi di rifare Bar Sport? ci vorrebbe stare beh per una volta in vita tua hai avuto una buona idea in offerta speciale ogni lunedì ore 20 e 45 su TRC Bar Sport canale 99 guardate a Pimpinello che succede se no? sono stato cacciato ti cacceranno Pimpinello aiuto